Le cadute si possono evitare? Previenile! Un allenamento corretto per aumentare forza, equilibrio e dinamicità ti aiuta a mantenere la mobilità e l'autonomia. Su camminare-sicuri.ch trovi molti corsi ed esercizi da svolgere in casa. Le cadute si possono evitare? Previenile! Un allenamento corretto per aumentare forza, equilibrio e dinamicità ti aiuta a mantenere la mobilità e l'autonomia. Su camminare-sicuri.ch trovi molti corsi ed esercizi da svolgere in casa.